La strategicità delle reti per lo sviluppo del Paese. E' questo il tema del convegno organizzato unitariamente da FIT, Flaei e Fistel, che si è svolto il 10 luglio a Roma presso l'auditorium di Via Rieti. All'evento hanno preso parte il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, i segretari generali della FIT, Giovanni Luciano, della Flaei, Carlo De Masi e della Fistel, Vito Antonio Vitale, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, l'AD di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, il direttore delle infrastrutture Enel, Livio Gallo, l'AD di Autostrade, Giovanni Castellucci, l'amministratore unico di ANAS, Pietro Ciucci, l'AD di Telecom, Marco Patuano, il DG della RAI, Luigi Gubitosi e l'AD di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. Il segretario generale della FIT, Luciano, ha aperto il convegno spiegando che è stato organizzato per formare gli iscritti in vista della nascita della futura federazione delle reti. Le reti possono contribuire al rilancio del paese, ha detto il segretario generale della Flaei De Masi nel suo intervento. Subito dopo, Vitale, segretario generale della Fistel, ha presentato una relazione condivisa con FIT e Flaei in cui ha fotografato la situazione infrastrutturale italiana e avanzato le proposte della CISL. Ad esempio, occorre investire in interconnessioni tra le reti che devono rimanere pubbliche e la regia finanziaria potrebbe essere della Cassa Depositi e Prestiti. Dopo gli interventi delle aziende e della CDP, Bonanni e il ministro Lupi hanno tirato le fila dell'incontro. In particolare, il segretario generale della CISL ha sollecitato il governo a moltiplicare i suoi sforzi contro la crisi anche investendo nelle infrastrutture. Qua ci vogliono politiche anticicliche, masse di denaro che muovono l'economia perché oggi è stantia, insieme pensiamo noi a una riduzione forte dalle tasse. Il ministro Lupi ha risposto elencando le iniziative fatte, in particolare grazie al recente decreto del fare e ha ringraziato la CISL per il suo ruolo costruttivo durante la crisi.